Ieri sera BlackBerry ha presentato la sua ultima novità per il mercato italiano, BlackBerry Curve 9380, un terminale tutto touchscreen. Assieme al nuovo terminale arriva anche in Italia BBM Music, il servizio di condivisione della musica. Ecco i dettagli dalla viva voce dei dirigenti BlackBerry. Oggi presentiamo il nuovissimo dispositivo smartphone di BlackBerry Curve 9380, caratterizzato innanzitutto dall'essere uno dei primi dispositivi Curve con lo schermo full touch. Quindi questa è una grandissima innovazione da parte di BlackBerry, presentando una soluzione particolarmente adatta ad un mercato consumer, un'utenza giovane, alla quale viene abbinato un servizio social, un'applicazione con un carattere molto social che si chiama BBM Music. L'offerta che noi facciamo già al lancio del 9380 sarà quella di offrire il servizio BBM Music con sei mesi di applicazione gratuita, con la possibilità di scaricare fino a 50 canzoni all'interno del proprio dispositivo, ma soprattutto di poterle condividere con tutti i contatti collegati tramite il BlackBerry Messenger. Per il momento questo servizio gratuito per sei mesi sarà disponibile soltanto sul Carver 9380. Per gli altri utenti e successivamente al terzo scadere, all'eventuale scadere di questa promozione, il servizio costa 4,99 euro al mese. L'indirizzo di questo dispositivo è particolarmente giovanile per diversi aspetti. Per il design particolarmente pratico e maneggevole, un dispositivo piccolo da maneggiare, sicuramente in termini di prezzo, il prezzo al pubblico suggerito di 299 euro è particolarmente indicato per un'utenza giovanile che quindi non può permettersi delle spese eccessive e le funzioni che vengono offerte insieme al dispositivo in termini di applicazioni social, quali BBM Music, realtà aumentata con l'applicazione Wikitude e il BBM Music hanno un orientamento particolarmente giovanile e per questo motivo è particolarmente adatta ad un pubblico di questo tipo. Il prodotto sarà già disponibile ai negozi a partire dalla prossima settimana.